Sesto round del mondiale Superbike a Barcellona, circuito del Montmelò per quanto riguarda la Superbike Jonathan Ray allunga nel mondiale vincendo una gara sulle tre previste ma c'è già un titolo del mondo che è stato assegnato ed è quello della Supersport 600 la categoria intermedia dove l'italiano Andrea Locatelli ha dominato in lungo irrago la stagione ha vinto con quattro gare di anticipo il titolo del mondo della Supersport 600 ed è proprio da qui che incominciamo nel Racing Podcast del giorno dopo purtroppo la Superbike non è uscita domenica alle 19 perché appunto domenica ero in quel direccione per un torneo di slow pitch softball ma parliamo di motori mentre per quanto riguarda il baseball ne parleremo settimana prossima Andrea Locatelli appunto è campione del mondo all'esordio assoluto in Supersport 600 una Supersport 600 che veramente è stata una stagione da un certo punto di vista molto monotona perché Locatelli ha dominato in lungo e in largo il campionato ha vinto nove delle prime gare consecutive non ha vinto la decima consecutiva ma perché il diluvio universale si era abbattuto su Barcellona vincendo l'undicesima gara in programma quella della domenica mattina il pilota bergamasco si aggiudica il campionato nel mondo con quattro gare di anticipo ed è il secondo titolo consecutivo per il team Bardalevan Bros Yamaha R6 per il team italiano che appunto dopo aver vinto l'anno scorso con Randy Krummenacher vince quest'anno in maniera ancora più netta e ancora più perentoria con il pilota bergamasco che veramente sembrava ingiocabile in tutte le piste la maggior parte delle vittorie di Locatelli sono arrivate dominando e non ci poteva che essere un esito differente per questo campionato della Supersport 600 a questo punto per Locatelli si aprono le porte della Superbike in una categoria che dovrebbe vederlo nel team clienti la Yamaha GRT in attesa che appunto la scuderia giapponese scelga il secondo pilota da affiancare a Toprak Rasgatioglu visto che Vandermark sarà accasato in BMW l'anno prossimo ma tornando alla Supersport è stato comunque di tutto in questa categoria considerato anche già il roster e la lista partenti del campionato perché il principale contender di Locatelli ovvero Jules Clusselli non era presente perché è infortunato e lo ha sostituito un pilota inglese molto promettente per la Supersport e un molto esperto anche di questa categoria ovvero Kai Smith e Kai Smith ha fatto bella figura perché è finito subito a podio nella prima gara della stagione una gara di Supersport che appunto vede Andrea Locatelli finire soltanto quarto perché appunto come dicevo nella categoria Supersport 600 si è battuto un diluvio universale nella gara 1 di Barcellona e i risultati sono stati stravolti evidentemente per quanto riguarda la classifica Locatelli non ha vinto la decima gara consecutiva vittoria che è andata al francese Andy Verdoia ma Locatelli appunto vincendo la gara 2 e considerato che Clusselli non è stato presente perché è infortunato avendo più dei punti necessari per la matematica certezza del titolo sul nuovo contender che è Lucas Maia vince il titolo Supersport 600 e dunque festeggiamo il titolo per Andrea Locatelli titolo ampiamente più che meritato per quanto appunto un netto dominio così francamente non si era mai visto forse i tempi di soffoglio o tempi d'oro ma probabilmente nemmeno così tanto un Andrea Locatelli che dunque vince il titolo del mondo con 263 punti e Maia è seconda 159 tornando invece alle gare il diluvio universale regala la prima vittoria in assoluto a Andy Verdoia pilota francese giovanissimo all'esordio in Supersport 600 anche lui Verdoia però viene dalla 300 e vince di fatto essendo stato il primo a cambiare le gomme da asciutto a bagnato nella gara di Barcellona che ha avuto il diluvio universale verso i due terzi della competizione Verdoia è stato il primo a cambiare le gomme il primo a tagliare il traguardo e sulla classifica di tutti i settori compilati e completati dai piloti e per questa classifica dunque il pilota francese si è giudicato la vittoria della gara 1 della Supersport 600 Lucas Maia fa il secondo podio consecutivo e fa ancora una volta alla seconda posizione e terzo Kai Smith il pilota di cui vi ho parlato in precedenza che ha sostituito Jules Crousel sulla Yamaha del team GRT 94 e ha fatto il podio pronti via al rientro in Supersport Kai Smith è un pilota che è molto esperto in questa categoria e ha vinto il titolo l'anno scorso addirittura del campionato europeo purtroppo il pilota inglese si ritira nella gara 2 che vede appunto il podio di quelli che potevano essere i contendenti al titolo ovvero lo stesso Andrello Catelli che appunto vincendo in pista si consacra a campione del mondo della categoria secondo ancora una volta Lucas Maia e terzo Filippo Etel la campagna di squadra di Maia sul team Puccetti a questo punto le 4 gare che mancheranno a Manicur e Destoriela saranno per il semplice spettacolo e vedremo se Locatelli farà ancora una volta il poker vincendo le ultime 4 gare rimanenti prima poi di approdare in Superbike a proposito di Superbike mentre ha suonato Fratelli d'Italia per Locatelli in gara 2 e la Marsigliese per Andy Verdoia e celebrando ancora una volta il Piatta Bergamo anche come campione del mondo passiamo alla Superbike perché ancora una volta come in Australia abbiamo avuto 3 vincitori diversi nelle 3 competizioni il primo è ovviamente il cannibale Jonathan Ray che taglia il traguardo in questa immagine per primo la gara 1 e allunga in testa al mondiale rispetto a uno Scott Rally che in questo scorcio di Barcellona è stato abbastanza in colore per non dire pessimo qui il nord irlandese ha dominato come è solito fare e non ha avuto pietà degli avversari il 97esimo vittorio in carriera per il pilota della Kawasaki che dunque allunga sempre di più e si avvicina ai 300 punti in classifica di questo campionato discorso diverso invece va fatto per quanto riguarda la Super Sport Race e la gara 2 perché la Super Sport Race la vince quello che probabilmente era l'uomo più in forma insieme poi anche al vincitore di gara 2 ovvero Michael Van der Mark Van der Mark ha fatto podio in gara 1 taglia il traguardo per primo nella Super Sport Race e si aggiudica una vittoria meritata e Van der Mark come dicevo prima è un pilota in uscita dall'aliena ufficiale l'anno prossimo l'olandese sarà in BMW discorso diverso ma forse non troppo va fatto anche per il vincitore di gara 2 che è un altro pilota che era stra in forma in questa gara di Barcellona ed è Chad Davis il pilota gallese si riscatta e torna alla vittoria la Ducati dunque ancora una volta porta a casa una prima posizione ma non è quella Ducati giusta quella che dovrebbe vincere il titolo ovvero quella di Scott Redding che in questa gara lo vedremo poi con la classifica del campionato ha fatto veramente tanta fatica ma è col pilota gallese che anche lui sarà in uscita da Ducati ufficiale perché il suo posto verrà preso da Michael Rinaldi ma questa vittoria del gallese è fondamentale per il Molaga del pilota e probabilmente per guadagnarsi un posto ancora in una Superbike perché comunque un Chad Davis ci vuole in una Superbike comunque veramente molto competitiva il gallese vince per la prima volta in questa stagione e dunque allunga in quella classifica anche Chad Davis in lotta ma per la terza posizione a proposito della classifica del campionato l'andiamo a vedere con appunto i risultati completi il podio di gara 1 lo completano appunto Jonathan Ray seconda posizione per Scott Redding e terzo Chad Davis che comunque è stato uno dei piloti più in forma di questa gara di Barcellona discorso diverso invece va fatto per la Superpool Race che vede sempre Jonathan Ray sul podio ma al secondo posto dietro a Michael Van der Mark che ha vinto terza posizione per Loris Baz con le Yamaha clienti del team Tenkat evidentemente con le condizioni un po' più fresche il pilota francese si trova meglio e tutte le Yamaha hanno fatto una grande prestazione perché il podio vede ancora una volta le Yamaha protagoniste a completare il podio perché gara 3 la vince appunto Chad Davis il pilota gallese seconda posizione ancora per Van der Mark che dunque rimane in lotta per il quarto posto visto che Razgat Yoglo non è stato presente in questa competizione terza posizione per Garrett Gerloff pilota americano del team Yamaha Junior GRT per quanto riguarda Garrett Gerloff è stata una prestazione maiuscola è stato uno dei piloti più in forma a partire dalla domenica mattina e probabilmente questo podio potrà portare lo statunitense l'anno prossimo alla sella ufficiale di fianco a Toprak Razgat Yoglo che vi ricordo è caduto nel warm up e non ha preso parte alle gare della domenica peccato perché la lotta per il terzo posto nel mondiale Superbike è veramente molto accesa con tre piloti in lizza per appunto la posizione sul podio dietro Reading e Ray gli inni nazionali che suonano sono dunque God Save the Queen sia per Jonathan Ray sia per Chad Davis anche se per purtroppo il pilota gallese non suona l'inno gallese che è la terra dei nostri padri un inno veramente meraviglioso per Michael Van der Mark suona Het Wilhelmus l'inno nazionale olandese e assegniamo dunque i rider del giorno prima di vedere cosa hanno fatto gli altri italiani per ogni gara c'è un rider probabilmente da premiare e ovviamente in ordine di importanza premio Garrett Gerloff per questa signora prestazione soprattutto per la domenica mattina il pilota americano molto giovane viene dal Moto America si merita il mio premio di rider del giorno il rider del giorno non possiamo che darlo a Michael Van der Mark che si riscatta e dà dimostrazione a Yamaha che secondo me forse hanno sbagliato a non puntare più sul pilota olandese e non si può dare il rider del giorno se non a un pilota ovvero Chad Davis perché veramente il pilota gallese era veramente in forma un quarto, un primo, un secondo posto dimostrano che evidentemente il pilota con la carriera numero 7 è ancora competitivo probabilmente non gli daranno più una Ducati ufficiale visto che non faranno tre moto a Bologna però come dicevo prima un Chad Davis in superbike ci può ampiamente stare chi ha deluso è purtroppo quello che doveva approfittare anche dei passi falsi direi che ci sono stati soprattutto in gara 2 ovvero Scott Redding Scott Redding è una delusione per quanto mi riguarda lui che doveva essere il principale contender e lo è tuttora vista la matematica non ha approfittato del quarto posto direi in gara 3 o gara 2 visto che comunque è la seconda gara lunga e porta a casa soltanto un podio la peggior prestazione la troviamo nella Super Bowl Race visto che Scott Redding finisce ottavo ai margini della zona punti veramente non una prestazione felicissima per il pilota che vede sfuggirsi il titolo e di fatto consegnarlo a Jonathan Ray che è sempre più vicino a vincere il sesto titolo consecutivo su Kawasaki passiamo agli altri piloti italiani perché Rinaldi non ha fatto i podi che ha fatto ad Aragon ma ha fatto un nono scusatemi un sesto un settimo e poi si è ritirato purtroppo nell'ultima gara complice un problema tecnico al motore e poteva fare secondo me una prestazione molto interessante a Michael Rinaldi anche in quella competizione Federico Caricasulo si ritira nella Super Bowl Race e fa punti in gara 1 e in gara 2 c'erano altri italiani presenti in questa competizione Lorenzo Zanetti fa 17esimo e 13esimo nella gara 1 e nella Super Bowl Race nella gara 2 però questa 13esima posizione fa punteggio ed è importante il risultato per il pilota che ha sostituito Mercado in questa stagione almeno in questa gara ovviamente visto che l'argentino è ancora infortunato c'era anche il pilota che ha sostituito Marco Melandri in questa competizione ovvero Samuele Cavalieri pilota giovane classe 1997 sul team Barney peccato perché poteva portare a casa probabilmente dei punti fa 16esimo in gara 1 Samuele Cavalieri si ritira nelle altre due competizioni ma in gara 2 era in una classifica in una posizione importante in particolare era verso l'undicesima ed è una posizione che per un pilota di fatto all'esordio assoluto in Superbike non è propriamente una cosa da poco Superbike che tornerà insieme alla Super Sport 600 e alla Super Sport 300 a Manicour Francia e concludiamo dunque questo primo recent podcast di 2 con appunto la Super Sport 300 che vede anche qui un assolutamento della lotta mentre per un attimo era comparsa la grafica della Super Sport 600 è successo che il parco dei vincitori del titolo probabilmente si è ridotto a due olandesi Jeffrey Buic e Scott De Rude del team MTM Motoport e compari di squadra non vincono i due piloti olandesi queste competizioni però comunque considerato che i principali contender al titolo hanno fatto più o meno fatica evidentemente è una lotta nel team olandese i vincitori delle gare Tom Buteymos vince la prima gara di due di Catalunia e per lui suona God Save the Queen l'inno nazionale britannico seconda posizione in classifica per quanto riguarda la gara di Samuel Di Sorà al primo podio assoluto il pilota francese e terza posizione per Mark Garcia di rientro in questa categoria Mark Garcia è il pilota vincitore del titolo del mondo nel 2017 e al rientro pronti via fa poi in una gara che è stata condizionata un po' dalle condizioni della pista che erano umide e non propriamente asciutte considerato che la Supersport 300 ha corso dopo il diluvio universale del 600 vittoria invece di volata per Utah Okaia in gara 2 per lui suona il Kimi Gaioli in nazionale giapponese ed è tripletta per il team MTM Motoport perché seconda e terza sono appunto Scott De Roo e Jeffrey Buis Okaia tra l'altro vince il Gran Premio in un passo all'esterno l'ultima curva un po' come fece in proporzioni ovviamente più grandi Valentino Rossi su Argo Lorenzo nel 2009 qui la manovra è veramente molto similare anche se le categorie sono ovviamente diverse e anche le moto però Okaia fa un gran sorpasso e batte De Roo e Buis permettendo di fatto ai due contenni olandesi di giocarsi il titolo nelle prossime due gare di Francia e Portogallo Manicur e Desturil in particolare la gara di Manicur sarà il weekend del 3-4 ottobre e lì parleremo ancora una volta di Superbike mentre concludiamo qui il Racer Podcast e vi lascio dunque con la classifica del campionato delle derivate dalla serie categoria regina con Jonathan Ray a 290 punti a poco più di 50 punti cioè Scott Redding a 239 fatemi sapere dunque cosa ne pensate i prossimi appuntamenti del canale sportivo saranno domani ore 19 per quanto riguarda il moto mondiale e poi invece questa domenica ci sarà il post gara del Gran Premio di Russia per quanto riguarda la Formula 1 lunedì parleremo invece di MLB visto che la stagione finisce la stessa questa domenica e poi martedì ancora una volta il moto mondiale che corre a Barcellona come ha fatto superbike quest'oggi il saluto da parte di Metotorga ci vediamo domani con il post gara del moto mondiale e dunque ci vediamo presto dunque un prossimo video